Se passa il messaggio che imprenditore o meglio prenditore, quindi degli pseudo imprenditori si inseriscono in questi processi, gli vengono affidate delle risorse molto importanti da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale perché parliamo della vita di centinaia di persone e questi illegittimamente si arricchiscono, diventano soltanto un arricchimento personale e alla fine non vengono neanche condannati in una maniera efficace il messaggio che passa è molto pericoloso, è l'ennesimo schiaffo Stamattina c'era l'udienza preliminare del processo Ventures sono imputati i soci Ventures per bancarotta fraudolenta nell'udienza preliminare si sono presentati le parti e gli imputati non c'erano, quindi i soci Ventures assenti c'erano gli avvocati difensori che hanno chiesto sostanzialmente non ancora formalmente, però hanno anticipato la richiesta di patteggiamento quindi avere lo sconto di pena, una pena che poi si ridurrebbe a tre anni però sostanzialmente anche il fatto che non si riconosce nessun risarcimento a chi ha subito i danni, i lavoratori per primi il pubblico ministero si è detto d'accordo a questa soluzione perché giudica la pena congrua noi sia come organizzazione sindacale sia gli avvocati che rappresentano gli iscritti della FIOM sia altri legali compreso il legale che rappresenta la Wilm e altri legali che rappresentano altri lavoratori invece siamo contrari a questa situazione a questa soluzione perché chiaramente non farebbe neanche minimamente giustizia rispetto a quello che è successo perché qui siamo di fronte al fatto che Embraco Whirlpool voleva chiudere quello stabilimento e licenziare tutti allora 500 lavoratori ci ha messo quattro anni perché nel frattempo sono successe molte cose compreso il progetto di reindustrializzazione Ventures che fu controllato e vagliato dall'allora governo in carica quindi aveva anche questo tipo di garanzie diciamo così ma alla fine ha raggiunto il proprio risultato la fabbrica è stata chiusa quel capannone è vuoto e i lavoratori sono disoccupati hanno sofferto in questi cinque anni e continuano a soffrire e alla fine nel progetto di reindustrializzazione i soldi che dovevano servire per far partire nuove produzioni per far arrivare nuovi macchinari per far partire nuove produzioni sono spariti chi è imputato per averli distratti come viene detto alla fine se la cava sostanzialmente senza pagare nulla non è vero Grazie a tutti.